La misericordia trionfa sul giudizio. Paolo e Barnaba hanno separato la loro missione una volta che hanno iniziato a vedere le cose in modo diverso. Tuttavia, il 2 era abbastanza maturo da sostenere la loro campagna evangelica senza deludere Dio. La scrittura ha registrato il momento della separazione di Paolo e Barnaba e ha dichiarato, poi la contesa divenne così aspra che si separarono l'uno dall'altro. E così Barnaba prese Marco e salpò per Cipro ma Paolo scelse Sila e se ne andò, essendo raccomandato dai fratelli alla grazia di Dio. E attraversò la Siria e la Cilicia, rafforzando le chiese, ati 15,39-41. Lezione. I fratelli cristiani che provengono da diverse confessioni possono non essere d'accordo su tutto ciò che è praticato. Nel cristianesimo, tuttavia possiamo ancora servire Dio insieme. Siamo chiamati a servire Dio insieme, e dobbiamo farlo senza prestare inutilmente attenzione alle nostre dottrine contrastanti. La comunità cristiana non deve permettere alle nostre diverse opinioni di ferire il Vangelo per cui Gesù è morto. Dovremmo imparare da Paolo e Barnaba, che erano collaboratori nella vigna di Dio, ma avevano opinioni diverse su alcune questioni. Il duo si è separato, ma non ha scapito del Vangelo. Paolo e Barnaba non ammettevano le loro differenze per ferire il loro rapporto con Dio, trattavano le loro differenze con maturità e i loro ministeri erano preservati, atti 15,39-41. È degno di nota menzionare che sia Paolo che Barnaba prosperarono nelle loro relazioni dopo le loro separazioni. Preghiera, caro Dio, ti prego di salvare la comunità cristiana dall'amarezza e dalla rabbia della divisione che ostacolano le nostre operazioni. Lascia che i fratelli si comportino in modo rispettoso l'uno con l'altro. Permettici di trovare un terreno comune che ci offra una piattaforma per predicare il tuo Vangelo imparziale. Aiutateci a mettere da parte le nostre differenze e a rispettare gli insegnamenti della Bibbia. Lascia che il tuo Spirito Santo ci dia le giuste interpretazioni della tua parola e che le applichiamo adeguatamente nella nostra vita. Aiuta la Chiesa a essere sensibile e a lanciare corporalmente delle crociate che sosterranno il tuo giusto standard e porteranno le persone a ricevere la tua salvezza. Lasciateci essere i vostri veri ambasciatori sulla terra, in modo da poter ricevere le vostre ricompense eterne in cielo. Perché nel nome di Gesù Cristo faccio le mie richieste. Amen.